Il marito non le ha mai fatto del male e provvedeva a tutti i suoi bisogni. Dipende da cosa si intende per fare del male e provvedere ai bisogni. Perché questa donna vuole il divorzio? Signori della corte, perché non lo ama più? Non è una ragione sufficiente! Cosa ha deciso allora? È disposto a concedere il divorzio a questa donna? Ha sentito? Non vuole più vivere con lei. Non vuole più vivere con lei. Ha, ho, 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 ho. Come, 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 come. Grazie a tutti.